Si sente ben vivo, non è vero? E come spiega allora che si parla di assassino? Ma perché? Ma io ho scherzato, benedetti ragazzi. Non ci gioca più. Io non capisco perché vogliate prendere le cose sempre tanto seriamente. Non si può scherzare un po' che subito ti prendono sul secchio. E poi dovreste ringraziarmi. Volevo vedervi fare una scena con Terry Mason, senza vittima e senza assassino.